Questi video che state guardando sono stati tutti creati utilizzando una nuova funzione di Leonardo AI. Fantastici vero? Ciao a tutti e buon 2024! Iniziamo questo nuovo anno sul canale con una bellissima novità nel mondo dell'intelligenza artificiale, ovvero la funzione motion di Leonardo AI. Conoscete bene Leonardo AI no? Ne abbiamo parlato qualche tempo fa qui sul canale, vi lascio in alto e in descrizione il tutorial completo sulle funzionalità base del programma. Non è un segreto comunque, se lo avete provato sapete meglio di me che le capacità di Leonardo AI sono così avanzate da essere una validissima alternativa a mi giorni. Ma ora potete utilizzare la nuova funzione motion per animare anche tutte le immagini che create con Leonardo e dar loro vita, portando la generazione di immagini al livello successivo. Nella presentazione di questa funzione leggiamo, motion è la nostra nuova funzione di punta che vi mette sulla poltrona del regista, rivoluzionate il vostro processo con un click per generare video. Andiamo quindi a vedere come si fa, è semplicissimo. Per iniziare bisogna andare sul sito di Leonardo ovviamente, se non lo avete create un account gratuito e successivamente effettuate l'accesso. Quassù in cima trovate elencati tutti i servizi principali di Leonardo, con le nuove uscite, infatti come potete notare troviamo anche motion con tanto di scritta new. Scorrendo un po' più giù troviamo la sezione delle creazioni recenti di altri utenti sulla piattaforma e notiamo che è stata aggiunta anche una nuova scheda chiamata appunto motion, cliccando su di essa possiamo vedere tutte le animazioni create con questa funzione. Come per le altre categorie del sito possiamo sfogliare tutte le creazioni degli altri e magari trovare l'ispirazione per i nostri progetti. Andiamo a vedere ora come si fa a creare un'animazione. Possiamo prendere un'immagine già esistente all'interno del nostro feed o generarne una nuova tramite il solito tool di image generation. Qui possiamo generare immagini desiderate inserendo una descrizione nel modulo di prompt. Ho già preparato un prompt quindi mi limito a incollarlo, poi seleziono il modello di cui ho bisogno per generare l'immagine e abilito l'opzione magic prompt, perché fidatevi migliora notevolmente le immagini. Un po' più giù sulla barra a sinistra è imposto la larghezza e l'altezza dell'immagine abile 280x720. In questa modalità il rapporto di aspetto viene automaticamente impostato su 16 noni, perfetto per questo tutorial su youtube. La generazione dell'immagine come vedete viene a costare 3 token che vi verranno sottratti dai crediti che trovate qui in alto a sinistra. Dopo la registrazione dell'accanto gratuito infatti abbiamo a disposizione 150 token giornalieri che vengono ricaricati ogni giorno. Bene, siamo ufficialmente pronti per dare vita alle nostre creazioni. Per animare l'immagine appena generata basta andarci sopra con il mouse e qui appare un nuovo pulsante che ci dice genera un motion video. Ci clicco sopra e si apre una finestra dove ci sono varie opzioni. In questa sezione troviamo l'opzione motion strength. Questa impostazione determina la quantità di movimento aggiunto all'immagine originale. Qui vi avverto dovrete fare qualche prova per capire a seconda dell'immagine che avete e che valore inserire. Un valore più basso produrrà un movimento subdolo mentre un valore alto cercherà di animare molti dettagli. Per il momento scegliamo un valore medio. Cliccando su genera vengono detratti 25 token dal nostro credito. E ora aspettiamo che Leonardo converta l'immagine in un video. Una volta completato la creazione sarà visibile sia sulla pagina del feed personale che sulla pagina di generazione. Il risultato finale è pronto sotto forma di un file mp4. Passando il mouse sulla miniatura è visibile un'icona per il download, così da poter caricare ed usare il video dove più preferiamo. A volte a seconda del tipo di immagine l'animazione non viene sempre perfetta, quindi vi consiglio di provare più volte a rigenerare l'animazione provando anche diversi tipi di valore e di motion strength. E poi vorrei sottolineare un punto molto importante, il nuovo pulsante motion è visibile anche sulle immagini degli altri utenti. Ciò significa che potete animare le immagini create da altri, ma che anche gli altri potranno ovviamente animare le vostre, a meno che non abbiate un account a pagamento che vi permetta di renderle private. Inoltre vi informo che ho molti tutorial dedicati all'EI sul mio canale, li potete trovare tutti raccolti nella playlist che trovate linkata a questo video. E niente, spero che questo tutorial vi sia stato utile, se avete imparato qualcosa di nuovo potete supportare il canale con la funzione super grazie che trovate sotto ogni video. Le vostre donazioni aiutano a sostenere il canale e a creare contenuti sempre migliori. Non dimenticate poi di mettere un bel mi piace, commentare e condividere questo video con i vostri amici. Ho molti altri tutorial in arrivo, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per essere informati sui prossimi tutorial. Io vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!